benvenuti in questo emozionante viaggio attraverso i dieci luoghi da visitare in svizzera dalle città cosmopolite alle valli idilliache dai laghi cristallini e i panorami alpini spettacolari questa guida vi condurrà attraverso una terra che incanta e sorprende pronti a lasciarvi trasportare in un viaggio indimenticabile attraverso i luoghi più belli della svizzera allora mettetevi comodi e preparatevi a sognare ad occhi aperti mentre scopriamo insieme le meraviglie di questo affascinante paese ecco la nostra personale top 10 tra i luoghi da visitare in svizzera berna è la capitale della svizzera è una delle città più affascinanti del paese situata sulle rive dell'ar berna è un mix di storia cultura e bellezza architettonica il centro storico di berna dichiarato patrimonio dell'umanità dall'unesco è un labirinto di strade in pietra edifici storici e fontane le case colorate con i tetti a punta risalgono al periodo medievale e conferiscono alla città un aspetto fiabesco uno dei punti focali di berna è la zitgloge una torre dell'orologio risalente al xiii secolo famosa per il suo meccanismo dell'orologio astronomico un'altra attrazione imperdibile è la cattedrale di berna nota anche come berner munster questo maestoso edificio gotico è il punto più alto della città ed è caratterizzato da splendide vetrate e da una scalinata che conduce al campanile da cui si può ammirare il panorama sulla città è sicuramente una città vivace e animata con caffè all'aperto ristoranti negozi e mercati affascinanti potrai passeggiare lungo la vivace cramgasse una delle vie principali del centro storico e goderti l'atmosfera unica di questa città ginevra è una città affascinante situata nella parte occidentale della svizzera sulle rive del lago di ginevra è conosciuta come il centro delle organizzazioni internazionali ed è spesso definita come la capitale della pace è sede dell'onu della croce rossa e di numerose altre organizzazioni internazionali questo le conferisce un'atmosfera cosmopolita e un'importanza globale una delle attrazioni più iconiche di ginevra e il jet d'eau un'imponente fontana d'acqua che si erge nel lago di ginevra alto oltre 140 metri il centro storico di ginevra è una delizia per gli amanti dell'architettura e della storia passeggiando per le sue strade potrai ammirare gli edifici storici come la cattedrale di saint pierre con la sua torre del dodicesimo secolo che offre una vista panoramica sulla città e l'hotel de ville l'imponente municipio ginevra è anche rinomata per i suoi parchi e giardini mentre per gli amanti della cultura vi sono una vasta gamma di musei interleken è una località situata nel cuore delle alpi svizzere ed è amata da turisti di tutto il mondo per la sua posizione spettacolare circondata da montagne maestose cascate e valli pittoresche la città stessa è incantevole con le sue strade tipiche i negozi di souvenir i ristoranti tradizionali e i caffè accoglienti il suo nome che significa tra i laghi deriva dalla sua posizione strategica tra il lago di thun e il lago di brienz offrendo splendide viste panoramiche uno dei principali punti di interesse di interleken è la stazione di jungfraujok questa stazione ferroviaria si trova a un'altitudine di oltre 3400 metri e offre viste spettacolari sulle montagne circostanti tra cui il celebre eiger il monce la jungfrau interleken è anche un paradiso per gli amanti degli sport all'aria aperta si possono praticare escursioni arrampicate parapendio rafting e persino sci in inverno la regione offre numerosi sentieri escursionistici ben segnalati che portano a splendide cascate laghi alpini e panorami mozzafiato il lago di ginevra conosciuto anche come lago lemano è uno dei più grandi laghi d'europa occidentale e si estende tra la svizzera e la francia è circondato da una bellezza naturale senza paragoni con le sue acque chiare e le montagne che si riflettono sulla superficie il lago offre paesaggi spettacolari e una sensazione di tranquillità il lago offre numerose opportunità per godersi attività all'aperto ad esempio si possono organizzare crociere sul lago per ammirare le splendide vedute panoramiche delle montagne circostanti e delle città costiere come ginevra lausanna montreu ed evian les bains in francia un'altra attrazione popolare è il castello di chillon situato sulle sponde del lago vicino a montreu questo antico castello medievale è immerso in un ambiente incantevole e offre una visione affascinante della storia e dell'architettura della regione lucerna è situata al centro della svizzera sulle rive del lago dei quattro cantoni è conosciuta per la sua bellezza architettonica il suo centro storico ben conservato e la sua posizione spettacolare tra montagne e lago la città è dominata dal famoso ponte della cappella un'iconica struttura di legno che risale al quattordicesimo secolo e attraversa il fiume reus il ponte è decorato con dipinti affrescati che rappresentano eventi storici e offre una splendida vista sulle montagne circostanti il lungo lago di lucerna è un luogo ideale per rilassarsi e godersi il panorama sul lago e sulle montagne lucerna è anche un punto di partenza ideale per esplorare le montagne circostanti il monte pilatus raggiungibile tramite una funicolare e una seggiovia offre panorami spettacolari sulla regione il monte rigi è un'altra montagna popolare da esplorare con una rete di sentieri escursionistici e una vista mozzafiato zermatt è un affascinante villaggio di montagna situato nel cuore delle alpi svizzere zermatt è amata da escursionisti alpinisti e amanti della natura di tutto il mondo è circondata da alcune delle cime più iconiche delle alpi tra cui il celebre cervino che è diventato il simbolo di zermatt il villaggio in sé affascinante con le sue case tradizionali in legno e le vie acciottolate la città è completamente priva di auto il che crea un'atmosfera tranquilla e un'esperienza unica i mezzi di trasporto principali sono i carri trainati dai cavalli e le biciclette zermatt è un paradiso per gli amanti dello sci e dello snowboard con l'area sciistica collegata con quella di cervinia in italia formando uno dei comprensori sciistici più grandi d'europa durante i mesi estivi invece si possono fare escursioni lungo i numerosi sentieri che conducono a valli idiliache e laghi alpini zurigo è la città più grande della svizzera è un importante centro economico culturale turistico il centro storico di zurigo noto come altstadt è una delle attrazioni principali della città si può passeggiare per le vie strette e scoprire le numerose boutique di moda caffè e ristoranti accoglienti la cultura zurigo è vivace e diversificata la città è sede di molti musei di fama internazionale teatri sale da concerto e festival durante tutto l'anno offrendo una varietà di spettacoli ed eventi culturali la città è anche rinomata per il suo shopping di alta qualità grazie alla presenza di negozi avanti i marchi di moda più esclusivi per gli amanti della natura zurigo offre molte opportunità di esplorare gli splendidi dintorni puoi fare escursioni nelle montagne circostanti visitare villaggi come raper su il sul lago di zurigo o esplorare le valli verdi dei dintorni la regione di jungfrau è una delle destinazioni turistiche più popolari della svizzera situata nelle alpi bernesi è conosciuta per i suoi paesaggi alpini con maestose vette montuose ghiacciai laghi e villaggi di montagna il punto culminante della regione è la montagna jungfrau che raggiunge un'altezza di 4158 metri e offre una vista panoramica spettacolare sulle alpi l'attrazione principale della regione è la ferrovia della jungfrau una delle vie ferrate più famose al mondo la ferrovia porta attraverso magnifici paesaggi alpini fino alla stazione di kleines keideg da dove si può salire a bordo del treno a cremaliera che porta al culmine della jungfrau durante i mesi invernali la regione si trasforma in un paradiso per gli sport ci sono numerose piste da sci e snowboard adatte a tutti i livelli di abilità con impianti di risalita moderni e ben organizzati se moriz è una delle località di montagna più esclusive e iconiche al mondo è rinomata per le sue incredibili condizioni di neve i panorami spettacolari e il suo patrimonio culturale la città è situata a un altitudine di circa 1800 metri circondata da montagne maestose e offre una vista mozzafiato sul lago di saint moritz la località offre una vasta gamma di hotel di alto livello ristoranti di classe boutique di moda di lusso e negozi di gioielli le sue piste da sci sono perfettamente preparate e offrono una grande varietà di livelli di difficoltà sia per sciatori esperti che per principianti durante l'estate saint moritz si trasforma in un paradiso per gli amanti delle attività all'aria aperta si possono fare escursioni nelle montagne circostanti giocare a golf praticare sport acquatici sul lago o semplicemente osservare le meraviglie naturali della zona la valle del reno è una regione situata nella parte settentrionale della svizzera lungo il corso del fiume reno è caratterizzata da paesaggi affascinanti verdi colline valli incantate e graziosi villaggi è una delle principali regioni vinicole della svizzera e produce alcuni dei migliori vini del paese la città principale della valle è basilea una città vibrante e culturale che offre una combinazione di storia arte e vita urbana moderna la valle del reno offre anche numerose opportunità per fare escursioni lungo i sentieri panoramici o fare una piacevole crociera lungo il per goderti la vista e la tranquillità la valle è apprezzata anche per la sua cucina locale ed i suoi vini come il pinot noir per ora il nostro viaggio termina qui se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale a voi non costa nulla per noi è molto importante seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti